ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video questa sarà una guida in cui vi mostrerò come cambiare la lingua di un bus x vegas 1 dall'inglese all'italiano in questo gioco del 2006 su un negozio steam c'è scritto che la lingua disponibile è l'inglese e il francese ma in realtà ci sono anche lo spagnolo e l'italiano come si fa bisogna andare su proprietà agli installati e file locali ero già attivato qua allora quando siete qui dovete andare su kenner game e pc fatto questo dovete andare su default engine e poi su kenner engine arrivati qui come potete ben vedere c'è scritto language inter sia su default engine che su kenner engine infatti appena io avvio membro six vegas 1 noteremo che il gioco sarà in inglese io lo faccio giusto per farvi vedere tutto il procedimento adesso noteremo lo schermo modini spesi di gioco per cambiare e qua giustamente lo vediamo in inglese ora andando su default engine c'è scritto language da int mettiamo ita sia qui e intanto salviamo possiamo anche togliere e su kenner engine vedete qua language da int mettiamo ita ovviamente tutto in in inglese io lo vediamo 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 in inglese io e adesso noterete che il gioco sarà in italiano ecco qua almeno i testi sono in italiano adesso voglio vedere con voi se effettivamente anche le voci sono in italiano ma io credo assolutamente di sì logan l'intelligence dice che è in inglese io lo vediamo in inglese io lo vediamo in inglese io lo vediamo in inglese io logan l'intelligence dice che c'è irena morales a capo dei terroristi abbiamo il via libera per la missione gabriel svegliati sono sveglio parla pure che cosa ci fa così al nord lavora con dei contrabbandieri coyote o sarebbe la prima volta che terroristi usano dei coyote per infiltrarsi negli stati uniti che ne facciamo di irena sic se la vuole dire con più sangue dentro che fuori peccato abbiamo raggiunto le coordinate state in guardia dalla zona di atterraggio dirigetevi alla fabrica aspettatevi una forte resistenza un pochetto va bene andiamo bene e quindi anche non sono i testi ma anche i voci sono in italiano facendo questo rpg voce moi bradis partaci via di qui facendo questo cambio bene logan ci vediamo al secondo punto di raduno portiamoli canna e gabriel roger procedo alla vecchia missione spagnola va bene ragazzi e allora spero che questa guida vi sia di aiuto se volete giocare questo fantastico gioco in italiano e nulla grazie per aver visto questo video e questa guida e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao